ho trovato una cosa poi non di che non ti penso mai ma allora vedi che sei tu che sei disabile non te la faccio vedere se la perdiamo tempo che cazzo è un complotto gabby la punta bene ci manca che darmi ho finito le armi ho solo questo il vetro il vetro parolta puttana ma non ho fatto niente della polizia smettetela bambini cattivi cazzo era un super eroe era fiamma dei fantasy c4 ma chi è con ma c'è lui è certo che c'è lui non mi resta mai sparlare no no Ale è Davide non è Gabby Ale l'hai visto in super eroe vuoi vedere? no no vieni qua vieni qua ti faccio dire il super eroe non mi incendiare non mi incendiare no la pistola guarda ho te la prendi in faccia ho te la prendi in faccia o ti fai sparare vieni qua 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 Ale lascia non stare Ale non lo picciare Ale non lo picciare Ale non lo picciare è l'ultimo pugno che ti do eh se vuoi che non ti ammazza Ale non lo picciare no i finestrini co***e ciao parti 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 sei parti c'è nessun live with party ti spurpar ci ho passato la testa che mongol esci esci chiamma chiamma me dai basta basta picciare finiamo l'altra giornata che poi io devo spegnere andamola a prendere e poi ci andiamo sul monte cigliati dai e lì facciamo a botte per si dai facciamo a scherzo dai ti butto al giuro lo facciamo dai ti butto al giuro è stato così facile ok lo giuro questo è l'ultimo ma lo giuro questo è l'ultimo ma si continua così fino a mezzanotte in qualità in qualità di toccato mi vedo la calmata mongol i cocaina ma crazzata tu è capo del m*** dai dai che stanno i colleghi che a posto ma non capo del m*** stiamo a riparare la macchina per 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 la macchina né per la macchina non mi ricordo non mi ricordo world mi ricordo ahhhh non so se questo è guidato come si può so minchia ne so che stai guidando mancherebbe te reale ero io con l'oro di prima le due castagne che gli ho tirato prima che ho tirato quelle due castagni all'olio sta ancora piangendo a gabrie sta ancora piangendo no no non entrare non entrare andiamo andiamo è troppo che me ne devo andare io pure io andiamo sul monte ciglia della finiamoci facciamo l'ultimo scazzato da la lori fin che arrivi è noto io l'endammarico di cosa effettivamente come spingi sta macchina è della polizia oh ragazzi voi scherzi ma fa 120 vedi che non è male la raga è turbo è tutta c'è stata pum c'è stata pum bobo bobo ma io ho messo la parmitta però non so nemmeno se si possono modificare no no non ci ho fatto caso oh ragazzi ma dove c'è tagliati? è chiuso è chiuso sul monte ciglia ma quanto sta? 1,60 euro 100,9 euro non ritri i benzini di destra molto vai invece pensa che qua invece la benzina da me costa 1.453 euro qua 1.453 sta scritto 1,4,5,3 eh 1,4,5,3 no ma era scisa mi parca l'altro giorno stava 1,38 1,37 1,3 nero ma di monte papà cazzo una bella benzina una botta di benzina una botta di benzina se vieni a bari costa un pazzo oh ma graffita l'occhio eh no ragazzi state nato buono in macchina fermo con la visita di istruzione qua la visita di istruzione i documenti gli sta chiedendo i documenti guarda quell'altro pezzente che gli sta portando la macchina guarda guarda quel pezze scusa scusciando la macchina però stai vedendo tutti i macchini stai vedendo tutti i macchini non è volante 13 abbiamo un versato abbiamo un sospettato ecco tu mi avvicina al sospettato mi avvicina al sospettato no non è questo la fu ci sta seminando ci sta seminando cazzo ma è scomparso non è che seminare a volare quella fu ti sembra fosse truccata cazzo eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo è lui è lui è lui ecco è ecco è ecco ecco tu vieni perché lui viene se senta scusi gentilmente puoi scendere un attimo non a me poi io volevo fottere la macchina ma non la fa fottere come per quelli come te chiamate l'estero chiamate l'estero chiamate l'estero chiamate l'estero che stanno l'importo eh l'importo chiamate l'importo chiamate l'importo questi mi vengono addosso mi rompono la macchina no 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 che successe ragazzi gentilmente potete chiamarlo voi prima eh l'avete fatto qui no l'ha rimessa che cazzo è successo ma anche come l'ha rimessa era due stelle l'ha tolta l'ha rimessa aspetta sei cinque quattro tre 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 ti vuoi essere in problemi ok lascia con me no adesso basta senza interruzioni perchè sennò squadra speciale al rapporto ci ci si as si 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 Assascii merda 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 è troppo grande come macchina volevo dire con la smart però la immuosina è uguale legge con l'assicurazione c'è che schifo la prantina tutti questi quelli ci fai si mettono in quel periodo suggerito in questo periodo di mozzo senza nessuno sulle strade e tu e tu magari fare i messi di poliziotto che prima di un messaggio lo dico l'ho fatto in botte la sono stata intesa booster in boost ragazzi stiamo per intercettare una grossa partita di cucarino 2 a 0 per cucarino solamente che mi hanno detto una cosa di cui ve ne parlerò dopo ragazzi bevendo quella che li facciano le booster e beh mi tiro tutto io a solo io ma state inseguendo qualcuno no i sogni sogni speranza il mio sogno è realizzabile diventate una ma no gabrie che fa il serio vabbè l'altro mattino però l'ha detto adesso faccio il serio e poi non ha fatto un cazzo sono consapevole dei miei sbagliere se lo vuoi mangiare bravo sei anche un poliziotto basta di lavare sulla cucina e hai fatto il giuramento e ti lavano sul cuore e ripetiti come di me io abbiamo arrivato ripeti io abbiamo arrivato imparerò l'italiano il vetro cazzo che è stato l'italiano vedi che è vedi che è che non vedi che è che non abbiamo arrivato è quello è sempre uno è sempre uno ma so ma quale è vetro quale è vetro quale è vetro i rute vedo che ti ho messo oh dico il vocabolario della crucia prendi il paracadute che dopo te ne torni a piedi aspetta chi cazzo è loro nooo è batman è certo che loro dove stanno lo vedo qua c'entra quello di controlla la polizia io imparerò l'italiano io imparerò e mi dava qua o mettiamo il cavolario della crucia e il cavolario della crucia e smetterò di pippare e doveх tu voglio pippare quella cosa che i miei genitori chiamano polvere di steve è quella cosa che i miei genitori chiamano... polvere di steve e smetterò alla mattina di cuore al cuore al 100% smetterò di bere alcool puro al 100% smetterò di lavare i piatti con il latte è più o meno E adesso mettiti in piedi e fa la rovesciata con i piedi a terra Ok Non lo voglio Non lo voglio L'abbè fatto su un terreno di piedi Ragazzi adesso basta, basta gli scherzi La centrale mi ha detto Dobbiamo sottomettere l'oro Perciò oggi vi ho convocati qui Abbiamo un'elicottero sotto la testa Perché il capo mi ha detto di portarvi qui Perché mi ha detto che fra di noi C'è una tante Chi è? Ragazzi E' uno molto Bravo assai Più bravo assai con l'italiano Italiano con la G Mi dure dirlo perché questa persona ha prestato servizio Per molto tempo ed è sempre stata una persona affidabile Non mi avete mai Non mi avete mai Non mi avete mai Abbiamo il sospetto Abbiamo il sospetto Abbiamo il sospetto che non cade giuro dalla vostra facendo un raso alto come scusi uscite gabrie se vuoi prendere la mia macchina scelta 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 scelta